In fondo tutti diciamo le stesse cose. Perché il colore della pelle non è differente? In fondo siamo tutti diversi. Perché gli aggiunti fanno la guerra? Dio certamente non è. Perché avvelinano la terra? Abbiamo solo una. A Natale un giorno gli uomini andranno d'accordo in tutto il mondo. Allora ci sarà un enorme albero di Natale con milioni di cantine. E ognuno ne tira una in mano. E nessuno riuscirà a vedere l'enorme albero fino alla punta. Allora tutti si diranno Buon Natale. A Natale un giorno. La Nette Lantella Forza Febile Grazie Grazie a tutti. 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 Mamma, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.